Probabilmente la parabola più tagliente, difficile e senza sconti del Vangelo di San Luca. Ci sono due protagonisti, un uomo ricco e un uomo povero. L'uomo ricco è definito dalle parole di San Luca un ricco che banchetta lautamente e si veste di porpora. Sono due indicazioni che sono dettagli che fanno la differenza. La banchetta lautamente al tempo di Gesù non si mangiava sempre e se questa persona poteva è perché era veramente benestante e si vestiva di porpora, cioè di un tessuto molto ricco, molto nobile, ma questo uomo ricco è senza nome e senza una identità chiara. E poi incontriamo il secondo protagonista, Lazzaro, il povero. Una persona che ha un nome, Eleazar, e Lazzaro appunto significa Dio salva, è un mendicante e, come viene indicato nel Vangelo, è gettato alla porta della casa del ricco. Gettato, ovvero considerato come una cosa e non come una persona. Lazzaro voleva semplicemente cibarsi delle briciole che cadevano dalla tavola di questo uomo ricco, cioè si sarebbe accontentato di ciò che mangiano gli animali domestici. E la sua voce, alle orecchie del ricco, è un silenzio assordante. La sua vita è totalmente emarginata, non è neanche minimamente guardata. E per entrambi i protagonisti succede qualcosa che tutti gli uomini sono chiamati a vivere, ovvero la morte. Per Lazzaro, povero, invisibile e umiliato, viene aperta la via al paradiso. Infatti viene accolto e abbracciato da Abramo, il padre di tutti i credenti. Il ricco, senza nome, a quel punto vede Lazzaro e lo riconosce. Prima faceva finta di non vederlo, prima Lazzaro dava fastidio al suo sguardo. E allora chiede due cose ad Abramo, proprio vedendolo vicino a Lazzaro. Gli chiede gocce d'acqua per dissetarsi dal caldo infernale che stava vivendo e poi chiede di aiutare i suoi amici, parenti, che sono ancora in vita, per che loro non facciano la stessa fine di lui. Abramo, sconsolato, dice che non è possibile per lui dare queste due cose e risponde così Tra noi e voi c'è un abisso. Abramo vorrebbe aiutare questo uomo morto dalla sua ricchezza, ma non può perché c'è un abisso invalicabile. E l'abisso ha un nome chiaro, l'abisso della indifferenza. Questo abisso che si scava giorno dopo giorno nella nostra vita. L'uomo ricco nella vita ha pensato solo a se stesso, c'era solo lui. Abramo, in questo caso, parla con lui. E in questo modo gli dimostra che già l'essere considerato, guardato, avere un dialogo è tanto. Avere occhi e labbra che si rivolgono agli altri vuol dire vedere gli altri, vuol dire riconoscere la presenza degli altri, chiunque essi siano. Quanto è brutto non essere considerati? Quanto è brutto essere messi da parte? Quanto è brutto sentirsi poco o nulla agli occhi degli altri? Allora, il tema del Vangelo di questa domenica è un tema che tocca a tutti noi. È il tema della indifferenza. Questo abisso che separa i due personaggi del Vangelo di oggi sia nell'aldilà che nell'aldiquà. Perché quando vivevano uno era affamato e l'altro era sazio. Uno era in salute e l'altro era coperto di piaghe. Uno viveva in una bellissima casa e l'altro viveva in strada. Il ricco poteva colmare il baratro e invece l'ha reso eterno. Attenzione perché l'eternità inizia già nella nostra vita terrena. L'inferno non sarà la sentenza improvvisa di un despota, ma sarà la lenta maturazione delle nostre scelte senza cuore, senza occhi, senza labbra. L'indifferenza è ciò che crea divisioni tra la gente. Mai sprofondare nell'abisso dell'indifferenza. Il primo miracolo è accorgersi dell'altro, sempre fa tanto male essere invisibili agli occhi degli altri. Ma noi, quante volte, giriamo la testa dall'altra parte quando vediamo il povero, l'emarginato. Ecco che il Vangelo di questa domenica ci richiama all'essenzialità della missione di ogni cristiano. Cioè, il vero cristiano, colui che si definisce tale, non può non considerare gli altri. Almeno perché proclama, prega il Padre Nostro. Se diciamo Padre Nostro significa che siamo tutti fratelli e sorelle e che non possiamo escludere gli altri. Ai cristiani è chiesta l'attenzione, non l'indifferenza. Il Signore, nonostante la nostra povertà, la nostra miseria, è sempre ripiegato verso di noi, con la mano tesa, con lo sguardo misericordioso, proprio come un padre con i figli. Ecco, penso fortemente che ci apriranno o ci chiuderanno le porte del paradiso le persone che abbiamo aiutato o rifiutato nel nostro pellegrinaggio terreno, nella nostra vita. E allora concludo, concludo con tre frasi che possono riassumere molto bene la parabola di questa domenica. La prima di un grande mistico spagnolo, San Giovanni della Croce, che diceva al tramonto della nostra vita verremo giudicati sull'amore. Un altro grande santo, San Vincenzo de Paoli, sosteneva che se uno prega e un povero ha bisogno, bisogna lasciare la preghiera e far diventare che l'aiuto al povero diventi preghiera. E infine concludo con una frase molto importante del Vangelo di Matteo al capitolo 25 che dice Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto.